Ciao ragazzi e bentornati, buon sabato! Oggi come potete vedere abbiamo un bel po' di pacchi da scartare assieme, ho tante cose da mostrarvi, soprattutto sono curioso di aprire questo pacco che mi è stato inviato dal buon Emanuele come regalo di Natale, quindi non vedo l'ora di scartarlo anche se ormai siamo un po' fuori tempo, ma ci tenevo a farlo assieme a voi visto che lui ogni volta non smette mai di stupirmi. Ma ragazzi prima di cominciare a scartare questi pacchi voglio dirvi che qualora foste interessati ad acquistare questa maglietta qui a tema Harry Potter o tantissime altre magliette a tema Harry Potter e a tema di tantissimi altri film, telefilm, videogiochi e di tutto quello che potete immaginare, le trovate tutte su Pampling, sotto trovate il link e potete utilizzare come al solito il mio codice sconto che è 7POTTER per avere il 15% di sconto sul vostro acquisto. Ragazzi detto ciò bando alle ciance e cominciamo da questo pacco qui, questo pacco che mi è stato inviato da Saldapress, è sicuramente un fumetto e vediamo assieme di cosa si tratta. A me piacciono un sacco le confezioni di Saldapress, guardate come arrivano belle imballate in questi cartoni e mi piacciono davvero tantissimo. C'è anche il mio nome scritto qui con la penna e andiamo a tirare la linguetta per l'apertura facilitata. Ecco qui, sono un incapace, la tiravo dall'altro lato. E ragazzi, qui ecco che troviamo il terzo volume di Dirk Gently. Ragazzi, questo volume è un volume molto particolare perché si va a collegare direttamente alla serie TV che abbiamo visto l'anno scorso su Netflix. Serie TV che tornerà con la seconda stagione proprio nel mese di gennaio sempre su Netflix e che non vedo l'ora di guardare. Purtroppo credo che la serie sia stata ufficialmente cancellata e non ci sarà una terza, anche se già i fan sono in rivolta. Quindi vedremo se poi magari ci ripenseranno e rimetteranno in produzione anche questa, come già ha successo con altre. Quindi non vedevo l'ora di leggere questo qui, che è la parte 1 e si intitola Il Salmone del Dubbio. Ragazzi, sono curiosissimo, a me sono piaciute tantissimo le prime due avventure di Dirk Gently. E non vedevo l'ora di poter leggere anche questa che trovate già in fumetterie. Ringrazio tantissimo Saldapress per avermene inviata una copia perché Dirk Gently secondo me è qualcosa di geniale. E ragazzi, adesso andiamo avanti e prima di aprire questo qui, questo bel pacco, questo magari lo mettiamo così, no, non ci riesco. Ragazzi, adesso vi mostro il contenuto di questo pacco che non è un unboxing a dire il vero, visto che l'ho già aperto e l'ho aperto su Instagram. Quindi ragazzi, qualora non mi seguiste su Instagram, vi consiglio di farlo, qualora vi facesse piacere vedere alcune cose in anteprima, prima che arrivino sul canale, capiterà sempre più spesso o più avanti. E ragazzi, ecco qui questo bel pacco gigantesco con dei regali di Natale che mi sono stati inviati da EMP e che adesso vi andrò a mostrare nuovamente, alcuni di voi li avranno già visti velocemente sulle mie stories di Instagram, ma tant'è adesso le andiamo a riguardare. Ragazzi, questo pacco è gigantesco e tiriamo fuori intanto queste che sono due maglie. Queste due maglie sono una del trono di spade, guardate ragazzi quanto è figa questa qui, maglia ufficiale sotto licenza a Game of Thrones. Poi ecco qui che mi hanno inviato anche quest'altra bellissima maglietta che invece è col TARDIS di Dr. Who. Queste naturalmente le trovate tutte su EMP, ma non è ancora finita perché c'è anche una cosa molto potteriana. Ecco qui ragazzi il salvadanaio a forma di nottetempo. Quando l'ho visto mi era piaciuto tantissimo e sono felicissimo di averlo ricevuto e di potervelo mostrare. Eccolo qui e ragazzi è fatto benissimo, l'ho già mostrato su Instagram come vi dicevo ed è fatto davvero molto molto bene. È tutto in ceramica quindi abbastanza delicato, ma ragazzi guardate quanto è fatto bene. Abbiamo tutte le finestre colorate, non sono adesivi, non c'è nessun adesivo, è tutto stampato direttamente sulla ceramica. E poi sotto ecco che abbiamo il solito tappo di gomma che troviamo in tutti i salvadanai e sopra la fessura per infilarci i nostri risparmi. E qui troviamo anche questa scaletta, esattamente come nel film, per accedere all'interno del nostro nottetempo. Dietro c'è anche un piccolo cartellino che ho scritto tutte le destinazioni e qui sul fronte c'è scritto nottetempo in inglese naturalmente, Nightbus, e poi davanti è esattamente come nel film. Le dimensioni come vedete non sono gigantesche, però sono giuste per essere posizionato su una scrivania, per metterlo vicino ai nostri libri di Harry Potter, secondo me è la dimensione corretta. Che poi ragazzi, siamo sinceri, almeno per quanto mi riguarda non riuscirei mai a riempire neanche questo qui, quindi figuriamoci se fosse stato più grande. Ma adesso, chiusa questa piccola parentesi potteriana col mio bellissimo nottetempo, io vorrei mettere tutto qui esposto per bene, ecco che ragazzi, tiriamo fuori un ultimo oggetto che mi ha mandato letteralmente fuori di testa. Eccolo qui, si tratta di un oggetto Funko e ragazzi, si tratta dello sparaporte di Rick, di Rick e Morti. E' davvero una figata. Questo qui lo trovate su MP disponibile ed è fatto benissimo. Io non l'ho ancora tirato fuori dalla scatola e credo che non lo farò, perché mi piace tantissimo il packaging di questo giocattolo, perché alla fine un giocattolo è, ma ragazzi, quanto è carino. E' compreso di batterie e davanti troviamo le sue tre lucette che sparano la porta. E la cosa molto bella e interessante è che una volta cliccato il tasto qui dietro, ecco che emette dei suoni e spara davvero la porta su una superficie. Quindi ragazzi, c'è un piccolo proiettore che va a sparare la porta sul muro. E questa porta è super dettagliata. E' davvero un gran bel proiettore questo che hanno inserito, perché è un'immagine che viene proiettata davvero molto molto nitida, è molto vivace, ha dei colori davvero molto vivaci, è assolutamente uguale a quella che vedete qui dietro nel cartone o qui davanti. Cercherò di mostrarvelo comunque in azione e adesso vi faccio ascoltare anche i suoni. Ecco qui. Ragazzi, a me piace davvero tantissimo. Come vedete si illumina anche la parte superiore e al buio l'effetto è ancora più bello. Poi sul davanti, come vi dicevo, viene proiettata la nostra porta. E quindi ragazzi, anche su questo io ci farei un pensierino. Ma io sono un caso patologico perché praticamente farei un pensierino su qualsiasi cosa. Io comprerei tutto, tutto quello che fa parte del mondo nerd, dell'immaginario collettivo nerd. A me attirano tantissimo queste cose, poi magari le rivendo dopo un po', poi magari le scambio, però ragazzi a me queste cose piacciono tantissimo. Ma adesso passiamo a questo che è il pacco che mi è stato inviato per Natale dal buon Emanuele che, vi ricorderete, mi ha già inviato in passato il dissenatore, mi ha inviato la dama della Noble Collection, della Gringot. E ragazzi, vediamo cosa si è inventato questa volta. Io spero non abbia speso tanti soldi. Gliel'ho detto, gliel'ho raccomandato più di una volta. Io ho inviato da parte mia un piccolo pensiero a Emanuele che so aver gradito e sono contentissimo di aver azzeccato i suoi gusti. E ragazzi, adesso ecco qui il mio regalo. Questa è la busta di Amazon che non apro perché sennò mi spoilerò il contenuto. E ecco qui addirittura confezione regalo. Possiamo togliere la scatola. E ragazzi, intanto guardate quanto è carina questa confezione regalo di Amazon. E vediamo cosa riporta il bigliettino. Io sto conservando tutti i bigliettini che mi arrivano sia ad Emanuele ma anche quello che ho ricevuto con i miei Weezies e tanti altri che ho ricevuto in privato. Quindi questi li sto conservando tutti. E qui c'è scritto tantissimi auguri di Buon Natale Antonio a te e la tua famiglia. Un abbraccio forte Emanuele. Grazie Emanuele, lo sai, ti ringrazio tantissimo. Te l'ho detto in privato un milione di volte che non dovevi disturbarti. Ma tant'è, adesso ecco qui il regalo che sinceramente non ho idea di cosa possa essere. È morbido, è sottile, non ho idea. O si tratta di una sorta di libro o di un poster, di qualche stampa, non ne ho idea. Vediamo di cosa si tratta. Leggo già Harry Potter, ragazzi. E vediamo cosa c'è all'interno. Questo sacco è a prova di manomissione. Ok, ci siamo, ragazzi. Io ho già visto e già non do fuori di testa solo perché ho la telecamera davanti. Ragazzi, ecco qui il regalo di Emanuele. Pazzesco, ragazzi, la mappa del malandrino. Io non so assolutamente come devo fare con Emanuele. Come devo fare con te Emanuele che mi fai questi regali pazzeschi. E ragazzi, qualora foste interessati, a questo punto vi farò la recensione. Ma intanto la apriamo perché io non posso aspettare. C'è scritto di aprirla sul retro. Ecco qui. Anche questa Noble Collection è firmata sul retro. Sono già andato in confusione completamente. Io non potrei mai fare dei video dedicati solamente ai vostri unboxing perché sarebbero dei video da manicomio. Ecco qui, ragazzi, la mappa del malandrino che sinceramente non mi aspettavo così grande. Io credevo che quella contenuta nel volume La Magia del Film, se non sbaglio, sì, La Magia del Film fosse già quasi in dimensioni naturali. Quella è piccolina, me ne rendo conto. Pensavo fosse leggermente più grande quella originale. Ma qui parliamo almeno del triplo delle dimensioni di quella lì. Eh, ragazzi, è bellissima. È davvero bellissima. Io volevo acquistarla da tantissimo tempo. Non so come mostrarvela per bene ma è davvero enorme. E il cartoncino è molto rigido. Non me l'aspettavo così rigida. Non so davvero come mostrarvela. Cercherò di fare così. Guardate quanto è bella questa mappa del malandrino. Davvero molto 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 bella e le dimensioni sono davvero molto generose. Più che generose. Davvero bellissima. Me la spulcerò tutta per bene. Andrò a leggermi anche i nomi che sono contenuti all'interno perché dovrebbero esserci forse anche i nomi degli studenti o perlomeno i nomi di tutti i passaggi. Sì, delle aule. Tutto scritto all'interno. Ragazzi, bellissima. Grazie, grazie mille Emanuele per questo ennesimo bellissimo regalo. Ragazzi, io a questo punto non so più cosa dire e mi sa che non mi resta che salutarvi. Io martedì prossimo vorrei proporvi un nuovo format a tema Harry Potter. Spero che vi piacerà perché vorrei riproporvelo almeno una volta al mese. E ragazzi, quindi mi piacerebbe davvero sapere il vostro parere sotto nei commenti di quel video. Fatemi sapere se vi piacerà l'idea. Spero di sì. Ci ho lavorato un po' sopra e quindi sono abbastanza sicuro di questo mio nuovo piccolo format. E ragazzi, a questo punto io ringrazio ancora tutti. Ringrazio Salda, presto ringrazio MP. Ringrazio tantissimo Emanuele su di tutti perché davvero è sempre super generoso. E quindi ragazzi, vi saluto davvero questa volta e noi ci vediamo martedì. Ciao!